L'economia della conoscenza, con la sua enfasi su informazione e innovazione, sta emergendo come successore dell'era industriale. Su questo paradigma potrebbe puntare la città di Brindisi alle prese con una crisi che sembra non avere sbocchi. Con l'avanzare della globalizzazione, la crescente accessibilità delle informazioni, questo tipo di economia potrebbe ben presto diventare il motore principale della crescita e in questo contesto si inserisce la candidatura della città, capitale italiana della cultura per il 2027. In corso di definizione e di ultimazione la mappatura del terzo settore nella città, noi speriamo che prima della pausa estiva, subito dopo i grandi eventi, le elezioni, il G7 eccetera, potremo fare la prima conferenza sul terzo settore a Brindisi. Ecco tutto questo per noi che è un grande patrimonio non solo ideale ma anche pratico e concreto che rappresenta il primo grandissimo veicolo di approccio alla preparazione del dossier di candidatura alla capitale italiana della cultura. Se a questo aggiungiamo che noi siamo una città è un territorio più ampio, anche provinciale, in grave declino industriale come penso che tutti quanti sappiano a causa della dismissione della centrale dell'Enel, a causa della crisi che sta investendo il settore chimico, cioè due degli elementi portanti dell'economia brindesina, se a questo in fondo poi aggiungiamo anche la nostra particolare collocazione geopolitica, questo essere da sempre, dai Romani ai Crociati ai giorni nostri, il punto di riferimento del Mediterraneo, quindi una porta sul Mediterraneo, voi comprendete che le nostre ambizioni sono in qualche maniera anche ben giustificate.